... Hanno risposto all'appello 28 colleghi, pertanto la seduta è in numero legale, che tuttavia ricordo essere seduta in seconda convocazione. Nomino scutatori, consiglieri decensi, bocci e rizzi. Dobbiamo partire nei nostri lavori, permettetemi un secondo, volevo congratularmi con il collega Calise che si è laureato e questa è una buona cosa aver fatto il consigliere da anche concluso l'itinerario, concluso, una parte dell'interscolastico, quindi io sono molto lieto e detto questo possiamo partire con la votazione sulla quale è mancato il numero legale, che è quella che mi risparmiate di rileggere perché l'abbiamo letta l'altra volta, vero? che è la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale aventi ad oggetto rendi conto della gestione dell'esercizio 215. La delibera è la 265 e che è... Grazie. Grazie.